Buongiorno, da Telpress Italia, primo piano, nota stampa, di martedì 3 maggio. Per quanto riguarda i temi di difesa, in primo piano c'è sempre lo scontro politico con il Movimento 5 Stelle, contrario all'invio di armi a Kiev. L'esecutivo spieghi gli sforzi contro la guerra, così il leader Giuseppe Conte, che ha aggiunto, è giusto che dopo due mesi di conflitto bellico, il presidente del Consiglio, Draghi, e il ministro Guerini vengano in Parlamento a riferire. Putin si può permettere di non farlo, da noi funziona diversamente, ha detto ospite a Metropolis su Repubblica.it, come riporta il Corriere, e proprio il leader del Movimento viene intervistato anche da stampa, credo sia assolutamente necessario intensificare gli sforzi diplomatici, dice, ma anche l'embargo è un obiettivo da perseguire. Poi precisa, oggi è detto che siamo contrari ad armi sempre più pesanti e letali, e in particolare all'invio di carri armati. L'Italia, in linea con la sua vocazione tradizionale, dovrebbe piuttosto essere in prima linea per mettere a servizio della comunità internazionale la sua capacità di dialogo. Tra i temi toccati è anche quello dell'aumento delle spese militari, che rischia di scavare un solco. Un solco direi di no, dice Conte, perché dopo la nostra presa di posizione anche il PD ha convenuto che rispettare entro il 2024 la regola del 2% non era sostenibile. Giusto armare l'Ucraina, ma Kiev rinuncia al dogma dell'integrità territoriale. Così invece Massimo Cacciari, intervistato dal dubbio, secondo il fatto invece Draghi si è venduto, cannoni che non ha. Le armi pesanti non ci sono e il decreto frena. Pochi tem che cannoni. Il premier prende tempo, ma c'è la visita a Biden in programma il prossimo 11 maggio. Anche Adolfo Urso, su verità precisa, prima di inviare carri armati a Kiev, Draghi deve riferire al Parlamento. Il presidente del Copasir, sono emerse divergenze e il decreto già prevede passaggi in aula. Il governo non si sottragga. Lavrov, il Cremlino, sfrutta canali di influenza. Noi convocheremo i vertici di Rai ed Agicom. Sul Corriere invece intervista Pietro Serino, capo di Stato maggiore dell'esercito. I russi combattono come 30 anni fa, ma senza tecnologia non si vince e aggiunge, oggi quel modello non paga più, aerei ed elicotteri non resistono al moderno campo di battaglia, tra i temi affrontati anche quello della creazione dell'esercito europeo. Credo che i concetti chiave siano integrazione, interoperabilità e rapporto sinergico tra le forze militari e industrie europee. La nostra prima missione è la difesa della nazione e dei suoi interessi, la seconda è quella della difesa degli interessi euro-atlantici. Un caposaldo fondamentale è che le due dimensioni, NATO ed Europea, continuino a coesistere, ma con una capacità militare che si basa sulla non duplicazione degli apparati militari, con un unico set di forze che può operare sotto entrambe le organizzazioni. Questo è un concetto irrinunciabile. Intanto domani l'esercito italiano compirà 161 anni. Negli ultimi vent'anni è stato anche un fiore all'occhiello del nostro paese, dice Serino, sia dentro che fuori dai confini nazionali. Adesso che ci troviamo ad affrontare missioni diverse, dobbiamo rinnovare il parco delle forze corazzate. Ci stiamo lavorando. Nel campo elicotteristico ci stiamo lasciando alle spalle un parco che risaliva agli anni 80, le risorse ci sono, mi auguro che il Parlamento continui a contividere le intenzioni del ministro Guerini. Per quanto riguarda gli esteri, è bufera sull'Italia dopo Lavrov a Rete 4, aberrante ed osceno. La UE contro l'Italia scrivono Repubblica e tutti le frasi di Lavrov. Il fatto che Zelensky sia ebreo non significa nulla, anche Hitler aveva sangue ebreo. Nel battaglione Azov c'è gente che ha tatuata sulla pelle la svastica, che legge il Mein Kampf. Bruxelles, non si deludano le sanzioni contro le fake news, draghi, opinioni false e avverranti più che un'intervista a un comizio, ha detto il Premier. Interviene il Copasir, l'ETA, un'onta inaudita, è propaganda, centrodestra più cauto, Mediaset, frasi deliranti, ma è servita per capire la storia. Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica di Roma, così trasforma le vittime in carnefici. Il primo ministro israeliano, Bennett, non ci sta e dice, è razzista e convoca l'abbasciatore, scrivono Repubblica e altri. Nessuna guerra di oggi si può paragonare alla Shoah. False, imperdonabili e oltraggiose. Dura e unanime in Israele la condanna. Le osservazioni di Lavrov rappresentano non solo parole imperdonabili ed oltraggiose, ma anche un terribile errore storico, ha commentato il ministro degli esteri, Yair Lapid. Il livello più abietto di razzismo contro gli ebrei consiste nell'accusare gli stessi ebrei di antisemitismo. Si continua intanto a combattere ed è attacco russo a udessa a sangue sull'anniversario del massacro del 2014, scrivono Repubblica e altri. Un 15enne ucciso, un bimbo disperso, una 17enne ferita, colpito anche un edificio religioso. Sette anni fa 42 filorussi morirono in un attentato dei nazionalisti ucraini nella casa dei sindacati. Alle 18.30 arriva il saluto di Mosca, un missile colpisce la città e lascia i suoi morti sul campo. Ma è battaglia anche a Kherson, la rete telefonica è in mano russa, scrive il Corriere. Scontro per il controllo della città meridionale, dove Mosca nazionalizza banche e comunicazioni. Kherson è sempre più russa. O almeno questo è il tentativo delle forze di Mosca, che ieri hanno passato sotto il proprio controllo proprio la rete telefonica della città. Sul Corriere intervista a Fumio Kishida, primo ministro giapponese, spetta ora la Cina a mostrarsi responsabile. La Russia cambia tutto e aggiunge, non possiamo più impostare le relazioni con la Russia come in passato. L'invasione può far vacillare l'ordine europeo, ma anche quello in Asia, ed è per questo importante che la Cina assuma un atteggiamento responsabile. Il ministro parla di crimini di guerra di Mosca, sanzioni e Taiwan, ma anche dell'Italia e del nuovo capitalismo. I scambi tra imprese italiane e giapponesi sono molto aumentati e possono servire a migliorare i rapporti con tutta la UE. In economia, sul caro vita, misure eccezionali. Aiuti per 28 milioni di italiani. Con queste parole, il premier Mario Draghi annuncia sostegni economici e aggiunge, nel decreto interventi per 14 miliardi, come riportano Corriere tutti. Nel decreto prevista una tantum ai redditi fino a 35 mila euro, cingolani. Lo schema euro-rubli non viola le sanzioni. In attesa di chiarimenti UE, Dombrovskis invece precisa possibili modifiche alle regole del PNRR. Anche per il messaggero, sulle bollette arriva un bonus da 200 euro a lavoratori e pensionati. Draghi, siamo vicini agli italiani. La tassa sui extra profitti sale al 25 per cento. Per la benzina, taglio di 30 centesimi fino all'8 luglio. Il presidente del Consiglio vuole anche un parere legale dettagliato su sanzioni e versamenti. Confermato lo stop all'importazione del petrolio russo, che sarà graduale. Su Repubblica intervista Roberto Cingolani. Entro il 2024 avremo le alternative all'import di gas russo. E aggiunge, stoccaggi decisivi fino a fine anno. Non vogliamo pagare i rubli, ma non si può scaricare la decisione sulle aziende. Polemiche sul Movimento 5 Stelle, che non vota pienamente il decreto. E Conte, intervistato da stampa, precisa. Il deficit serve a contastare gli effetti dell'inflazione e il rischio recessione. L'embargo sul gas russo è un obiettivo, ma va rafforzato lo sforzo diplomatico. Poi definisce quello sui inceneritori un ricatto. E aggiunge, no a retromarce sull'ambiente. Vogliono umiliargi. Per Libero, quella del governo è una manovrina. Contributa una tantum a 28 milioni di persone. 3 miliardi per far ripartire i cantieri. Prorogato fino a luglio lo sconto benzina. Via Libera, il carbone per altri 24 mesi. Riassume il quotidiano. Lavoro, record precario. Sustampa l'analisi dei dati Istat. La disoccupazione scende ai livelli del 2011, ma è a termine la metà dei nuovi posti. Archiviato il virus, segnali positivi per le donne. Soffrono invece i giovani. Il presidente Istat Blanciardo. L'occupazione sta alzando la testa. Il problema però resta la qualità del lavoro. Anche secondo il messaggero, a marzo vuole all'occupazione, ma i precari sono la metà. Aumento di 800 mila unità rispetto allo scorso anno. Boom per le donne. Super bonus e villette. Termine per il 30%, spostato a settembre. Riporta intanto il sole. Il limite del 30 giugno viene prorogato di tre mesi. Arrivano modalità semplificate per calcolare l'avanzamento dei lavori. Sustampa l'intervento del ministro Renato Brunetta. Covid e guerra accelerano una crisi già aperta. Scrive, rischiamo gravi tensioni. Sbagliate le ricette che invocano altra spesa. Servono innovazione e riforme. In politica, il premier in Parlamento dicano all'escalation militare. Così Giuseppe Conte, in merito alla situazione in Ucraina, alla posizione italiana. Come riporta Repubblica, il presidente del Movimento 5 Stelle continua a rimanere freddo sull'invio di armi agli ucraini. E alla stampa dice, siamo contrari ad armi sempre più pesanti e letali. In particolare all'invio di carri armati. L'Italia, in linea con la sua vocazione tradizionale, dovrebbe piuttosto essere in prima linea per la sua capacità di dialogo. Ma il Movimento 5 Stelle è in polemica con l'esecutivo anche per la norma contenuta nel decreto aiuti che riguarda l'inceneritore di Roma. Conte alla stampa non c'entra nulla, non ha a che fare con i fondi stanziati contro il caro Bollette e il caro Vita. Il Movimento 5 Stelle si astiene sul decreto perché non possiamo, dice Conte, firmare cambiali in bianco ai sindaci su tecnologie ormai obsolete. E infatti è scontro sui pieni poteri e gualtieri. Come riporta il messaggero, lo scudo legale per il sindaco che deve far marciare il piano fondi non viene votato dai grillini. Legge elettorale, i big del PD sono d'accordo, bisogna provare ora a spingere il proporzionale, come scrivono Repubblica e altri. Diverse correnti lanciano l'offensiva per cambiare il sistema elettorale e anche Enrico Letta è favorevole. In molti sostengono che l'abbandono del maggioritario converrebbe anche a Salvini, che dunque potrebbe dare il suo appoggio. Ma è caos nel centro-destra, la stampa parla di macerie in riferimento a quanto accaduto nello scorso weekend. Tra incontri negati, fra Salvini e rappresentanti di Fratelli d'Italia, è la Meloni che dal palco della chermessa milanese ha lanciato frecciate. Mi trattano da imbucato, ma Giorgia sbaglia, ha commentato Salvini in merito al mancato accordo su una sua presenza alla convention di Fratelli d'Italia. Al leader del carroccio non è piaciuta nemmeno la frase con cui la Meloni ha detto di voler governare da sola. Come scrive Libero, Giorgia prenota il governo, titolo al tempo, che però riporta l'abbandimento di Salvini. Soltanto uniti si vince alle politiche. Andremo insieme. Ma la tensione sale anche sulle amministrative. Il messaggero registra la prova di forza della Meloni senza accordo in Sicilia. Salta anche la Lombardia. Musumeci resta il nome di Fratelli d'Italia per l'isola. Senza l'ok a Liui potrebbero saltare anche altri accordi. Nel fine settimana in programma un incontro anche con Berlusconi. Guido Crosetto al Corriere dice sono tutti invidiosi del percorso della Meloni. Con Salvini penso che saranno alleati sempre. Anche per oggi da Telpress Italia è tutto. L'appuntamento torna domani.